Un passo di Alessandra Puca E la storia di un bruchetto che esce fuori dalla mela Ed un passo dopo l'altro, lungo il ramo, lui va spasso Quanti fiori colorati! Che profumo! Si potranno anche mangiare? Gnam 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 Un passo, un passo Il bruco è sazio Tessa il bozzolo con cura Va in letargo E si riposa Ascoltate! Si è svegliato! Ha le ali! Può volare! Una farfalla è diventato Va sul ramo E vola via Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!